Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione di Antena Sud dell'attenta 85, leggero ritardo dovuto alla doverosa diretta per la premiazione del Taranto che ha vinto il campionato di serie di una settimana lunga e di festeggiamenti come giusto che sia per una squadra che torna finalmente nel calcio che conta apriamo però il nostro telegiornale non spostandoci dal capoluogo ionico c'è stato un focolaio Covid all'interno del carcere della città di Taranto ce ne parla Gianmarco Sanzolino 32 detenuti positivi al Covid e 31 in attesa di tampone, 16 contatti stretti e i restanti occasionali Inaspettatamente in coda questa pandemia si spera un focolaio da Covid si è sviluppato nella casa circondariale Magli di Taranto l'area interessata sarebbe quella di massima sicurezza al momento isolata massima attenzione da parte della direzione della struttura che sta attuando tutte le norme necessarie è stato consigliato ad esempio dall'ASRA di non far accedere nuovi detenuti dunque tutte le misure disposte dalla procura ionica verranno dirottate nelle carceri di Lece e Brindisi non è tutto perché nelle ultime ore una novità ha riguardato anche la medicina penitenziaria che da qualche anno riguarda l'azienda sanitaria locale con le dimissioni della direttrice medica della struttura Fernanda Gentile Andiamo avanti con questo telegiornale perché è stata una giornata particolare anche a Brindisi dove c'è stato un sit-in davanti alla centrale di Cerano Un pacchetto di richieste al Ministero della Transizione Ecologica tra cui un ammortizzatore sociale della durata di 7 anni per poter mandare in pensione il maggior numero di lavoratori possibile lo ha sollecitato il sindacato Cobas nel corso di un sit-in organizzato davanti ai cancelli della centrale Enel Federico II Il sindacato Cobas denuncia l'estremo ritardo con il quale si sta affrontando il problema dei lavoratori dell'Enel e soprattutto delle ditte appaltatrici che non hanno ammortizzatori sociali, non hanno nessuna speranza e vengono espulsi già con la prima avvertenza della Sir, quella del carbone la metà va fuori quindi noi chiediamo di mobilitarsi per andare a Roma e sostenere le nostre legittime ragioni al Governo, al Ministero per chiedere uno scivolamento per la parte più anziana del gruppo dei lavoratori di Cerano di 7 anni di abbuono per andare in pensione da 1 a 7 anni quindi certamente poi bonifiche, corti di formazione sulle rinnovabili chiediamo un polo di ricerca alla cittadella della ricerca per le rinnovabili di produzione per le energie rinnovabili e di applicazione sui tetti dell'intera provincia delle rinnovabili quindi un piano che potrebbe portare molto più lavoro di quello che stiamo perdendo I Cobas hanno ottenuto un incontro in Prefettura per venerdì 2 luglio alle ore 15.30 in cui verrà chiesto il sostegno per un incontro al Ministero e intanto a Lecce ci sono stati degli arresti per detenzione illegale di droga spaccio in pieno centro è questo quanto hanno scoperto nel corso di un regolare servizio di controllo alle persone sottoposte alla misura detentiva degli arresti domiciliari gli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce un'operazione che ha portato all'arresto di un 21enne leccese pregiudicato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di una pistola gas priva di tappo rosso perfettamente funzionante il giovane era stato arrestato nell'agosto del 2020 dal personale della stessa sezione volanti per rapina commessa in concorso e lesioni personali commesse al danno di un uomo al quale vennero sottratti il cellulare, il portafogli e l'autovettura nella zona del faro nella Marina di San Cataldo nel febbraio di quest'anno per tali reati il ragazzo fu condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione pena in corso di espiezione in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico all'interno dell'abitazione del giovane gli agenti durante la perquisizione hanno trovato 3 panetti di hashish del peso totale di 300 grammi circa e 3 involucri contenenti marijuana per il peso complessivo di 60 grammi nonché materiale utile a confezionamento delle dosi ed una pistola gas come detto poc'anzi la perquisizione domiciliare ha consentito inoltre di rinvenire la somma in contanti di 1.130 euro in banconote di vario taglio l'uomo ovviamente è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno della locale procura della Repubblica è stato condotto presso la casa circondariare Borgo San Nicola e intanto a Taranto c'è grande attesa per quella che è la sentenza che riguarda del Consiglio di Stato che riguarda l'Exilva mancherebbero ormai poche ore per la sentenza del Consiglio di Stato chiamato a decidere se confermare o bocciare la sentenza del Tardilecce che lo scorso 13 febbraio ha ordinato lo spegnimento in 60 giorni degli impianti dell'area caldo del siderurgico Exilva di Taranto dopo la sentenza della Corte d'Assise Ionica che lo scorso 31 maggio ha condannato quasi tutti gli imputati nel processo ambiente svenduto relativo al presunto disastro ambientale imputato all'Ilva sotto gestione Riva nonché disposto la confisca degli impianti questo del Consiglio di Stato è un altro nodo giudiziario fondamentale per l'acciaieria di Taranto che resta la più grande d'Europa perché se la confisca degli impianti disposta dalla Corte d'Assise non è immediatamente esecutiva in quanto subordinata ad altri due gradi di giudizio la Corte d'Appello e quasi tutti gli imputati impugneranno la sentenza di primo grado dopo il deposito delle motivazioni e la Corte di Cassazione, una eventuale decisione negativa del Consiglio di Stato in sede di merito cioè la conferma della sentenza del Tardilecce rischia invece di avere in tatti immediatisi lo stabilimento un verdetto molto atteso anche dal governo italiano per capire cosa fare di Taranto soprattutto dopo l'investimento attraverso Invitalia di 400 milioni di euro nell'attuale acciaierie d'Italia Rimaniamo a Taranto e sentiamo le notizie brevi che arrivano dal territorio ionico Prima riunione del tavolo di coordinamento che monitorerà l'esecuzione dei progetti legati al piano di rigenerazione sociale per l'area di crisi di Taranto con l'assessore al welfare Fico Celli e i dirigenti incaricati di seguire le diverse misure nelle quali sono stati investiti più di 20 milioni di euro di fondi che il Ministero dello Sviluppo Economico ha destinato a Taranto affidandone programmazione e monitoraggio ai commissari straordinari di Ilba in AES 12 sono i progetti al tavolo di coordinamento è stato presentato il monitoraggio delle attività svolte fino ad oggi con la sottoscrizione di tutti i disciplinari relativi ad ogni misura Un attimo può cambiare la vita e sapere cosa fare, come farlo e quando può fare la differenza anche se non si è medici specializzati per questo la consigliera comunale di Taranto, Carmen Casula ha organizzato con l'associazione Enjoy Your Dive un corso di primo soccorso rivolto alla comunità scout della Chiesa del Carmine a spiegare le importanti tecniche la dottoressa Stefania Ammodio si è svolto nel Salone La Caita del Palazzo della Provincia sottolineando l'importanza di avere in città luoghi cardioprotetti non solo con l'attrezzatura ma anche con il corretto utilizzo Hanno risposto con entusiasmo all'appello lanciato dal Comune di Taranto il gruppo Ragusa del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta insieme al gruppo Taranto ha consegnato all'assessorato al welfare sei abiti da sposa nuovi donati da un importante atelier che ha voluto regalare un sonno ad altrettante spose Alda incontra Taranto dialogando con i poeti pugliesi il titolo del primo degli appuntamenti previsti dal progetto sulle orme di Alda Merini dedicato dall'amministrazione Merucci alla celebre poetessa si tratta di un ciclo con la poesia a cura di Silvano Trevisani promosso dall'assessorato alla cultura su proposta della consigliera Galluccio Motolese e con la collaborazione dell'associazione Marco Motolese e Cleb Unesco Adesso parliamo del caso Scazzi ci sono degli aggiornamenti 11 condanne nel processo bis per depistaggi legato all'inchiesta Scazzi sono state cancellate la sezione distaccata di Taranto della Corte d'Appello di Lecce ha riformato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Taranto datata a gennaio 2020 il non doversi procedere per intervenuta prescrizione è stato dichiarato nei confronti di otto imputati tra cui Michele Misseri, lo zio di Sara condannato in via definitiva nel processo principale a otto anni di carcere condannato in primo grado anche a quattro anni di reclusione perché rispondeva di autocalunnia è scattata la prescrizione anche per Ivano Russo il giovane che sarebbe stato conteso tra Sabina e Sara in primo grado aveva rimediato la pena più alta cinque anni di reclusione per le ipotesi di false informazioni al PM e falsa testimonianza alla Corte d'Assise prescrizione pure per Alessio Pisello un amico di comitiva la mamma di Ivano, Elena Baldari Maurizio Misseri, nipote di Michele Anna Lucia Picchieri, moglie di Carmine Claudio Russo, fratello di Ivano Salvatore Serrano invece, detta d'ora è stata assolta perché il fatto non sussiste in relazione all'episodio delle presunte molestie attribuite a Michele Misseri e ha beneficiato della prescrizione per un residuo episodio del 17 aprile 2012 assolti Giuseppe Serrano, Anna Scredo e Giuseppe Augusto Olivieri Ci spostiamo invece a Ostuni dove c'è la polemica del primo cittadino della città bianca su Legambiente L'area del parco agrario degli olivi secolari del quale fa parte Ostuni insieme ai comuni di Polignano a Mare Monopoli, Fasano e Carrovigno retrocessa da 5 a 4 vele nella guida blu 2021 di Legambiente e Touring Club la delusione del sindaco della città bianca Guglielmo Cavallo che spiega i motivi dei finanziamenti ottenuti e degli interventi previsti respingendo le motivazioni espresse da Legambiente per questa scelta che tocca un'area vasta comprensiva di altri 4 comuni del territorio Barese e Brindisino Diciamo da che mondo in mondo la capacità di attrarre investimenti è un merito che le amministrazioni devono avere e noi questo merito ce lo teniamo stretto dall'altro canto evidentemente Legambiente conosce poco il progetto l'unico progetto che è stato presentato da Four Season di acquisizione di una lottizzazione già approvata più di vent'anni fa merito di questo intervento è di realizzare una struttura molto importante che consuma meno suolo paradossalmente e rispetta il PPTL della Regione Puglia quindi tutto questo accanimento verso questa progettualità verso questa crescita del territorio è sicuramente fuori luogo del resto devo anche dire che questo intervento non riguarda la piana degli olivi secolari e quindi anche da questo punto di vista la motivazione con cui viene retrocesso l'intero comprensorio e mi dispiace per i comuni di Monopoli e Fasano che vengono tirati in ballo in maniera altrettanto più immotivata rispetto a Ostuni e la motivazione è una motivazione completamente infondata e a proposito di Legambiente di Cinque Vele sentiamo quelle che sono le novità che riguardano l'attribuzione del riconoscimento nel territorio salentino la guida di Legambiente e il Touring Club italiano incorona la Puglia al secondo posto insieme alla Toscana fra le regioni dove il mare è più bello da quest'anno le Cinque Vele sventrano anche nel comprensorio turistico dell'isile Tremiti mentre viene confermato il premio per l'Alto Salento Ionico e l'Alto Salento Adriatico località attente all'ambiente oasi incontaminate simbolo della biodiversità luoghi in cui tuffarsi in un mare cristallino per una vacanza in una natura curata e protetta luoghi incontaminati dove si incrocia un turismo e la gestione del territorio attenti alle esigenze ambientali con un'offerta turistica eccellente tutto questo è il racconto del mare più bello la guida blu di Legambiente e Touring Club italiano nell'estate della ripresa le 5 vele vengono confermate nell'Alto Salento Adriatico a Otranto Melendugno e Venone nella parte ionica con Nardò Gallipoli Porto Cesario e Racale un riconoscimento importantissimo che dimostra l'attenzione del territorio salentino nei confronti della cura del suo mare e soprattutto di tutto l'ecosistema che lo circonda ed era questa la nostra ultima notizia l'informazione di Antenna Sud 185 di Torino puntuale e in diretta domani mattina con l'appuntamento con la nostra segna stampa questa sera invece non perdetevi linea diretta a cura del nostro Michele Iurlano buona serata a cura di l'appuntamento a cura di